Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Ci troviamo a Rockport, un'altra località che sta sull'oceano e vi presentiamo un nostro nuovo amico! È un bambino su una rana! Vedete? L'ho trovato molto simpatico perché era molto sorridente e quindi ho deciso di iniziare da qui Oddio Paola, veramente visto da qui sembra che stia piangendo Ha un'espressione un po' ambigua Va bene, andiamo avanti Qui abbiamo di nuovo i tulipani che ci circondano E qui, guarda che bel edificio tutto colorato C'è scritto che è un museo Facciamo due passi in questa località Paola Vediamo un po' se ti piace Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!